we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di news per quello che riguarda il futuro di fortnite e si parla dei prossimi giorni perché stanno arrivando veramente tantissimi regali che dovete recuperare in diversi eventi che epigames ha in programma quindi ragazzi mettetevi belli comodi perché oggi ve li elenco tutti ma prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ed è una notizia che arriva nel tardo pomeriggio di ieri prepare to ascend un tweet ufficiale nella pagina di fortnite come vedete tagga il dj diplo diplo presence higher ground is coming to the main stage on july 31 quindi ragazzi ultima tappa del concerto di diplo se andiamo nella sezione news della pagina ufficiale del sito web ufficiale di fortnite diplo presenta bra 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 palco principale di parti reale diplo ritorna per l'ultimo spettacolo della sua residence in parti reale ascendi al palco principale con l'esibizione in diretta di diplo present higher ground uno spettacolo musicale deep house con beats sofisticati e ipnotici ascendi questo venerdì questo venerdì 31 luglio alle ore 20 ora italiana sul palco principale di parti reale per goderti lo spettacolo completo di 30 minuti un concerto veramente incredibile ragazzi che però non è solo un concerto ma porta con sé un bel regalo non è necessaria la conferma di partecipazione higher ground tollerante con i ritardatari se non puoi arrivare per l'inizio delle 20 puoi comunque gettarti nella playlist di parti reale e seguire lo spettacolo in corso se ti sei perso lo spettacolo e vuoi rivedere higher ground puoi seguire la replica completa delle esibizioni di diplo martedì 4 agosto alle 3 ora italiana sul palco principale prendi la luce con te al termine dello spettacolo questa inedita copertura per il dopo festa reattiva alla musica ed eccola qua ragazzi una nuova copertura che ci verrà regalata reattiva se guardiamo il concerto porta la festa su nuove vette il costume envision quindi attenzione qua parliamo di nuove skin che vi faccio vedere debutterà nel negozio oggetti a partire da venerdì 31 luglio alle 2 il giorno prima dello spettacolo insieme al dorso decorativo alla musica zaino dj e al piccone coltelli leggeri insomma ragazzi questa è un'immagine molto più ad alta definizione della copertura e questa è tutto il set di skin anzi ve lo faccio vedere in un bel video mentre intanto ci parliamo queste sono tutte le skin che stanno per arrivare e che saranno insomma dedicate all'ultima parte del concerto di diplo envision la stiamo vedendo in questo momento con due varianti mascherata e non mascherata anche con il colore e addirittura anche con il bagliore quindi potremmo decidere se averla brillante oppure meno ma arriveranno come vi anticipavo appunto altre skin abbiamo nightlife che in realtà credo che noi l'abbiamo di già ma ci sarà uno stile aggiuntivo eccolo qua ragazzi sono tutte reattive adesso queste skin sono veramente molto belle da vedere forse un po' difficili da utilizzare nel battle royale perché appunto diciamo che attirano l'attenzione vi invito comunque a notare che sulla schiena delle skin il backpack è quello che arriverà nel negozio che è stato appunto annunciato abbiamo anche party mvp io non credo che queste skin le abbiamo già ottenute sì però non ci metterei la mano sul fuoco e per terminare prima di vedere la copertura in azione abbiamo anche party star che è davvero molto carina una serie di skin dedicate alla musica alla festa ai beat e insomma tutto quello che succederà prima appunto di salutarvi questo di salutarvi di parlare di altro questo è il piccone come vedete davvero carino doppio con due spade luminescenti ed ecco qua invece la copertura che possiamo vedere tranquillamente sulle armi quindi ragazzi tanta tanta roba per questo nuovo regalo non perdete il concerto non perdete la copertura e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché nelle prossime 24 ore sarà disponibile il summer legend pack non costerà ragazzi ma si aggirerà intorno ai 20 euro quindi dovrebbe costare 19 e 99 anche qui ragazzi mentre ve ne parlo vorrei lasciarvi che ve lo controlliate perché insieme al summer legend pack ci sono anche degli altri bundle uno lo abbiamo già visto il fortnight classics ma invece questo è scoops and slices come vedete sono tre backpack e un piccone che ancora non abbiamo visto e che sono chiaramente a tema estivo bellissima ragazzi la fetta di pizza molto carini anche i due gelatoni ma devo dire che il doppio piccone con i cucchiai del gelato vanno a completare il set whip quello insomma del gelato che abbiamo già avuto modo di vedere nel capitolo 1 della season questo pack l'abbiamo già visto è già stato proposto nel negozio il classic pack con tre backpack e un piccone ma quello che mi interessava di più farvi vedere era ovviamente il summer legends pack che appunto contiene tre skin tre backpack sono davvero molto carine le skin e anche molto divertenti perché c'è ad esempio la han pili quindi la banana senza la buccia che appunto è messa lì proprio davanti tropical punch zoe sour swear e han pili come vedete ragazzi i nomi in inglese delle tre skin che vi faccio vedere entro pochi secondi la banana ha anche degli stili questa è tropical punch zoe zoe che vi ricordo arriva direttamente dalla season 4 quindi parliamo di anni fa ed ecco qua la nostra bananazza con tanto di cappello hawaiano dopo ci ritorneremo sopra summer fable anche qua ragazzi va a riprendere cappuccetto rosso in una veste un pochettino più estiva e più moderna ma a me piace veramente tantissimo la bananazza con gli occhiali da sole se devo essere sincero questo è il mio stile preferito senza cappello con gli occhiali insomma ragazzi preparatevi perché c'è da cacciare un po' di un po' di soldini se volete il pack 20 euro e arriviamo ragazzi all'ultimo argomento di oggi perché volevo anche ricordarvi che c'è in regalo l'emote verve tutti i giocatori che parteciperanno alla proiezione di with the people su fortnite il 29 luglio riceveranno in regalo l'emote verve questa emote è stata creata a partire dalla danza inviata da michael meget il vincitore dell'emote royale contest michael e suo fratello jamie hanno creato insieme la coreografia di questa danza ricca di energia entra in fortnite tra il 28 luglio quindi oggi alle 2 del mattino dovevate già essere entrati se volevate ma va benissimo entrare anche adesso ora italiana il 30 luglio alle 2 per ricevere gratuitamente questa emote insomma ragazzi noi abbiamo ancora un pochettino di pazienza da tenere perché lo so che tutti stiamo aspettando i veicoli ma purtroppo nonostante ieri mattina si è scesa ulteriormente l'acqua non si sono visti e ovviamente è abbastanza chiaro che potranno arrivare con la patch 13.40 ma in questi giorni di attesa ci sono veramente dei regali super interessanti che secondo me se ci state un attimo attenti vale la pena di prendere tra vi ricordo che come è successo per le fncs dell'anno scorso il mio canale twitch era stato selezionato per regalarvi i drop quindi attenzione è una cosa casuale ragazzi non lo posso decidere io ma state attenti in questi giorni perché magari semplicemente guardando un po della live potrete ottenere il backpack l'adesivo e lo spray insomma ragazzi io vi ringrazio anche oggi per avere guardato tutte le news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao bestia mi secca proprio mi secca proprio la gola a registrare wow poi sono 107 mila gradi in questa stanza porcaccia di quella porcaccia se non mi tengo di fianco la quetta mi si si assidera tutta la gola ciao 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 ciao